Innanzitutto un buon inizio è il titolo della mia nuova canzone, che è anche quello che sto vivendo, è un nuovo inizio che mi auguro sia un buon inizio nel vero senso della parola. Questa canzone è stata scritta con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. È un brano al tempo stesso vicino e distante dal mio mondo e quindi l'ho ovviamente ascoltato con molta curiosità e avevo assolutamente bisogno che parlasse di me ancora una volta o comunque che mi aiutasse a riconoscere me stessa per presentarmi e difendere le parole che canto di fronte al pubblico. Quindi ho scritto a Riccardo, come un fiume in piena, tutti i pensieri che avevo ascoltando quella melodia. Poi ci siamo incontrati in studio e lì è nato il testo definitivo di un buon inizio. Mi piace unire la musica con l'immagine alla quale associare le parole che ho scritto e che sto cantando e quindi ho scelto le righe pedonali perché sono geometricamente perfette ma sporche. Sono state calpestate, c'è della vita su quelle strisce e sono il simbolo di una rivoluzione per me. Io voglio festeggiare i miei trent'anni facendo vedere a chi mi segue, a chi crede in me che festeggiare una carriera così lunga e bellissima. Non significa sedersi e festeggiare in maniera semplice, in maniera comoda. Voglio ricominciare, voglio rimettermi alla prova e un buon inizio per me è la luce che finalmente riesco a vedere di nuovo e la speranza che ogni nuovo capitolo porta in sé. Quindi alla fine un buon inizio sono io.